Buona domenica, ben trovati in una nuova edizione del TG6. Partiamo con le notizie di maggior rilievo a partire dal lunedì. L'aumento dei casi positivi registrati in provincia di Chieti fa riflettere in molti su come affrontare la fine delle restrizioni. Il 31 marzo, secondo le decisioni del governo, dovrebbero terminare le restrizioni, ma in realtà non termina il rischio di contagio. Omicron è soprattutto un virus che attacca i vaccinati. I rischi, dopo i 150 casi registrati due giorni fa, ci sono ancora? Sì, perché le varianti Omicron, in particolare l'Omicron 2, sono infettivi anche per i vaccinati, non soltanto ovviamente, ma anche per i vaccinati che però sviluppano una sintomatologia leggera. Quindi bisogna sempre ricordare che, anche se finisce lo stato di emergenza, il rischio di infezione è molto alto. Dopodiché i vaccinati hanno fondamentalmente soltanto il problema dell'assenza dal lavoro. I non vaccinati continuano ad avere rischi, ma ormai lo diciamo e lo ripetiamo. Quello che non deve succedere è che col 31 marzo si abbia una percezione che è tutto finito. In realtà finiscono solo le restrizioni, cioè finisce una strategia governativa di controllo e però le pratiche di cautela che conosciamo da due anni bisogna continuare a rispettare. Anche perché, diciamolo, inversamente a ciò che è successo l'anno scorso, con l'arrivo della primavera i casi, invece di diminuire, si stanno rialzando. Sì, è vero. Rispetto ai due anni precedenti della pandemia, in questa stagione i casi iniziavano a scendere e invece adesso l'arrivo di Omicron 2 li ha fatti risalire e questo è un dato nuovo. Poi, ripeto, non bisogna tanto preoccuparsi perché chi è vaccinato comunque sviluppa sintomi leggeri. Però certo ci dà il segnale chiaro che non è tutto finito, cioè il virus c'è ancora e che a settembre di nuovo dovremo stare molto attenti per vedere che tipo di varianti ci saranno. Ci sono anche rischi per il personale sanitario? Sì, il vero problema adesso, quando parliamo di pressione sul sistema sanitario, non è tanto quello dei ricoverati quanto del fatto che gli operatori sanitari vaccinati che si possono infettare senza gravi sintomi ma devono ovviamente stare a casa e quindi ci sono problemi, i colleghi hanno in alcune reparti problemi a coprire i turni. Questa è una situazione che per esempio all'inizio non c'era perché fondamentalmente il personale più protetto era proprio quello sanitario, era stato vaccinato per primo. Ma siccome adesso, come detto, l'Omicron 2 i vaccini li buca tranquillamente, c'è questo problema, bisogna stare tutti attenti. Ovviamente il personale sanitario si infetta fuori dall'ospedale, però se poi risulta positivo nei controlli che facciamo periodicamente è costretto a dover stare alcuni giorni a casa. Questo crea ovviamente dei problemi. Il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia, Giovanni Legnini, ha annunciato di essere al lavoro su un'ordinanza per calmerare i rincari sui materiali dell'edilizia. Il caro prezzi sulle materie prime rischia di congelare il settore dell'edilizia e lo stop potrebbe riguardare anche la ricostruzione. Si è parlato pure di questo ieri a Montereale, in provincia dell'Aquila, comune danneggiato da entrambi i recenti terremoti, quello del 2009, tra una settimana ricorrerà l'anniversario, e quello del 2016. Un tavolo a cui hanno partecipato il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia, Giovanni Legnini, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, i direttori dei due uffici speciali della ricostruzione per il 2009 e per il 2016, rispettivamente Raffaello Fico e Vincenzo Rivera, nonché 12 sindaci di comuni del doppio cratere tra l'Aquilano e il Terramano. Dovrebbe essere un'ordinanza di Legnini a calmerare il problema rincari nelle aree terremotate. Il commissario ha annunciato di essere al lavoro su un testo che potrebbe firmare entro la fine di aprile, per il quale sarebbe già in contatto con l'Istat. Ed è ciò che ieri hanno chiesto i primi cittadini. Lo stop alla ricostruzione, sia pubblica che privata, potrebbe vanificare gli sforzi fatti finora per rispettare le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stesso allarme lanciato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, che ha chiesto misure urgenti per evitare il default. Ci sono tutte le premesse per un immobilismo totale del comparto, fanno sapere dal Lance. Nell'ultimo periodo, infatti, si è registrata un'escalation in controllata dei prezzi, che ha origine prima dell'introduzione del superbonus, la misura che prevede detrazioni fiscali, che presto saranno ridotte ovunque, tranne che nelle aree terremotate. Dai tubing o mai ponteggi, fino al trasporto, i costi sono aumentati immediatamente del 40%, caso emblematico quello del bitume, la miscela con cui si produce l'asfalto, il cui prezzo è aumentato nel giro di un anno di circa il 75%, e il prezziario cambia di giorno in giorno. L'ordinanza di Legnini potrebbe essere non più al passo coi tempi, già nel momento in cui sarà firmata, questa la perplessità dei costruttori. E i costi potrebbero continuare a salire anche a causa dei rincari dovuti alla guerra in Ucraina. Se prima l'incidenza del costo del gas per la produzione di una tonnellata di asfalto era mediamente di 2-3 euro, ora è schizzata a 12-13 euro. Il Cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, è stato gradito ospite a Pescara in occasione del taglio del nastro per l'inaugurazione di casa a Terno, residenza per persone con disabilità del centro Don Orione. È stato il Cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a tagliare questa mattina il nastro di casa Terno, residenza per persone con disabilità presso il centro Don Orione di via Terno a Pescara. Si tratta di un appartamento di circa 300 metri quadrati in cui sono state ricavate 9 camere singole, autonome, oltre a spazi condivisi. Vi saranno accolte già dei prossimi giorni 7 persone che non hanno più il sostegno dei familiari perché sono venuti a mancare o sono troppo anziani. Si entra così nell'ambito del cosiddetto dopo di noi. Dice San Paolo che la carità vince tutto, quindi oggi chi ha vinto è veramente la carità e la carità si sprigiona direttamente dal cuore di Dio perché Dio è amore e contagia gli uomini. Ecco, io ho respirato un clima buono stamani, non solo per un'opera buona fatta che tutti sono in grado di poter valorizzare, apprezzare, eccetera, ma ci ho sentito veramente stamani da parte di tutti, cominciando da quei ragazzi che erano lì ad assistere e che ogni tanto qualcuno di loro a modo suo partecipava con qualche grido, come fanno sempre anche quelli dei miei quando li vado a visitare, era il profumo della carità che si respirava. E non poteva mancare un accenno anche da parte del Presidente dei Vescovi italiani sul conflitto in Ucraina, l'auspicio è quella di una pace, la pace del Signore. Sì, bisogna fare di tutto per raggiungere la pace. Ora sembrerebbero che ci fossero varie forze, varie nazioni che convergono fra di loro perché la pace va trattata, quindi bisogna cedere qualche cosa da tutte le parti. Se uno pretende di portare soltanto le proprie ragioni o le proprie presunte ragioni, non arriveremo mai alla pace. La pace è un accordo e speriamo che dopo questo massacro che è successo, perché nessuno di noi ha il presentimento, per esempio, del numero delle vittime, dei bambini che sono morti, è stata una tragedia immane questa qui, nel cuore dell'Europa. Dopo anni di attesa all'ospedale Mazzini è arrivata la nuova PET. L'ASL di Teramo ha infatti acquistato un macchinario di ultima generazione, fondamentale per lo studio dei tumori. Si completa così il percorso diagnostico dei pazienti oncologici che non avranno più bisogno di rivolgersi all'esterno dell'azienda Teramana. Ascoltiamo. Sono anni che l'ospedale Mazzini aspetta la sua PET. Acquistata dall'ASL di Teramo, finalmente è arrivata. Si tratta di un apparecchio digitale di ultimissima generazione, presentato a dicembre scorso durante un congresso internazionale di radiologia a Chicago. In Italia, l'ASL di Teramo è la prima a dotarsi di un simile macchinario, seguirà l'ospedale Careggi di Firenze. La PET è uno strumento importante soprattutto per lo studio dei tumori, ma può anche essere utilizzato per studi di cardiologia e neurologia. Il vantaggio dell'apparecchio appena aggiunto al Mazzini è quello di acquisire immagini in tempo minore rispetto al tipo analogico e con una più bassa dose di radiazioni somministrate al paziente. È un tassello importante il commento del direttore generale dell'ASL, Maurizio Di Giosia, per quanto riguarda il rinnovo delle apparecchiature ad alto contenuto tecnologico dell'azienda sanitaria Teramama. Con la PET si completa così il percorso diagnostico-terapeutico del paziente oncologico che non ha più bisogno di rivolgersi fuori dell'ASL di Teramo. La PET sarà sistemata all'ospedale Mazzini in un'area ad hoc della medicina nucleare, dove saranno eseguiti gli esami e dove è stata ricavata anche una sala d'attesa. Ora tutti gli elementi dell'apparecchio dovranno essere assemblati. Lo strumento dovrà essere poi calibrato e collaudato. Successivamente inizierà un periodo di formazione del personale sanitario. Si stima che la PET entrerà in funzione a Teramo nel mese di maggio. La circolazione del Covid in Abruzzo è ancora preoccupante, ma ad un alto numero di contagi non corrispondono un aumento dei ricoveri. Terminato lo stato di emergenza inizia il graduale allentamento delle restrizioni. I contagi da Covid galoppano in Abruzzo, ma i ricoveri restano stabili e oggi intanto terminerà lo stato di emergenza legato alla pandemia. La circolazione del virus, riconducibile ormai totalmente alla variante Omicron e alle sue sottovarianti, non si placa in media in Abruzzo. Sono 2.300 i nuovi casi ogni giorno e generalmente il tempo necessario a negativizzarsi è più lungo, dalle due settimane ai 20 giorni. Gli ospedali però reggono. Sono meno di 20 ricoverati nelle terapie intensive e circa 300 quelli in area medica. La campagna vaccinale intanto nelle ultime settimane ha subito un forte rallentamento. Non è servito nemmeno il vaccino Novavax, quello cioè con tecnologia tradizionale e non a mRNA a convincere gli indecisi. In Abruzzo, ad un mese da quando Novavax è arrivato, di questo vaccino sono state somministrate 724 dosi. Il rischio di una nuova ondata, dicono gli esperti, è rappresentato dall'allentamento delle restrizioni. Oggi, dopo oltre due anni, terminerà lo stato di emergenza e da domani inizierà il graduale ritorno alla cosiddetta normalità, un percorso che terminerà il 15 giugno con la fine di ogni obbligo di vaccino. Da domani, primo giorno non in emergenza Covid, diremo addio al Comitato Tecnico Scientifico che ha finora indirizzato il Ministero della Sanità e addio anche alla struttura commissariale del generale Figliuolo. La gestione sanitaria tornerà in capo alle regioni, seppur sia stata istituita un'unità per il completamento della campagna vaccinale, si legge nell'ultimo decreto Covid, e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. E da domani terminerà anche il sistema colori delle regioni. Eventuali restrizioni dovranno essere le stesse in tutta Italia. E anche il certificato verde sarà meno necessario. Il Super Green Pass servirà ancora per accedere a palestre, piscine, centri culturali, feste, congressi e convegni, casino e discoteche. Per entrare in bar e ristoranti, per salire sui mezzi pubblici o per recarsi al lavoro, invece, basterà il Green Pass base, quello cioè ottenibile anche mediante tampone. Al contempo si potrà accedere liberamente a negozi, banche, poste e uffici pubblici. Dopo anni di disservizi e di denunce che non hanno avuto alcun esito, il Movimento 5 Stelle, dopo l'esposto firmato dalla Capogruppo in Consiglio regionale, Sara Marcozzi, vuole vederci chiaro. Ascoltiamo. Di servizi e anni di attesa per avere una risposta, stiamo parlando delle problematiche legate all'Aso, in particolare i 5 Stelle hanno fatto questo esposto proprio sull'uso della PET che sta creando grossi problemi a chi ha malattie oncologiche, tra l'altro. Sì, sono passati ormai due anni da quando io depositai un esposto e feci un'interpellanza indirizzata all'assessore Verì per capire per quale motivo quello che doveva essere il noleggio temporaneo della PET-TAC nell'ospedale di Chieti durava in realtà da otto anni. Ora di anni ne sono passati dieci. Si va avanti di proroga in proroga in questo noleggio che costa oltre 500 mila euro l'anno. Calcoliamo che una PET-TAC nuova costerebbe 2 milioni di euro per cui in dieci anni ne avremmo comprata più di una. È uno sperpero incredibile di denaro pubblico e di risorse della nostra ASL ma è anche un disservizio straordinario non soltanto per i malati oncologici anche per tutti quei pazienti che soffrono di malattie neurodegenerative. Entrambe queste categorie di pazienti si sono già viste molto penalizzate a causa del Covid e dei ritardi come dire, dell'inseguire un po' l'emergenza che c'è stato negli ultimi due anni e adesso ancora una volta nonostante le promesse nonostante gli annunci nonostante i proclami di questa giunta regionale la PET-TAC nuova non si vede. Per quanto riguarda un altro disservizio legato all'ASL c'è il problema delle lunghe file delle lunghissime attese al pronto soccorso. Su questo versante cosa state verificando? Dunque, innanzitutto verifichiamo la totale assenza di comunicazione da parte del direttore Shell cioè noi cerchiamo di accedere agli atti di acquisire documenti ma la direzione generale non ci fornisce atti tanto è vero che anche su questo io mi sono vista costretta a depositare un esposto che pende in procura per cui formalmente non abbiamo atti perché la direzione generale si rifiuta di fornire degli atti. Inoltre io riscontro dei gravi problemi molto probabilmente di organizzazione anche all'interno della direzione generale è vero che il personale è come dire l'ASL avrebbe bisogno di più personale ma è compito appunto della direzione generale preoccuparsene. Quello che posso dire anche in questo caso è che anche in questo caso l'assessore Verì purtroppo è a conoscenza della situazione è a conoscenza delle lamentele di tutti i pazienti relativamente alle file interminabili nel pronto soccorso è a conoscenza delle come dire delle nostre lamentele nei confronti del direttore Shell e quindi della direzione generale relativamente alla mancata comunicazione dei documenti ma non fa niente. Venerdì dalle prime ore della mattina i vari periti tra cui quelli nominati dal gruppo del Tribunale di Pescara si sono ritrovati a Rigopiano un sopralluogo in contraddittorio che dovrà portare a far chiarezza sulle vere cause del disastro. A cinque anni dalla tragedia di Rigopiano il sopralluogo effettuato questa mattina nell'area del disastro punta ad essere uno dei passaggi chiave del procedimento a carico dei 30 imputati. Gli esperti del Politecnico di Milano nominati dal gruppo Gianluca Sarandrea insieme ai consulenti di parte della Procura e degli imputati hanno effettuato nuovi rilievi soprattutto per rendersi conto di persona dopo aver visionato foto e video di quella che è la realtà dei fatti. Questi serviranno a chiarire in via definitiva la correlazione tra le diverse scosse di terremoto della mattina e la valanga del pomeriggio che travolse l'hotel e mise fine alla vita di 29 persone. Il giudice per le udienze preliminare ha comunque deciso per un'ulteriore proroga così la perizia dovrà essere presentata il 12 maggio e non più ad aprile dunque in tribunale si tornerà con ogni probabilità a fine maggio. Il rinvio è sempre pesante però se è necessario ormai ne abbiamo sopportati tanti sopporteremo anche questo sopralluogo necessario a detta di tutti gli esperti noi abbiamo il nostro perito speriamo che questo serva finalmente a porre fine a questa fase e ad andare avanti nella ricerca della piena verità per dare pace ai nostri angeli a noi e anche per lasciare in pace questa povera natura che a mio avviso prima è stata diciamo sfruttata in modo sbagliato e adesso rischia di essere strumentalizzata perché con uno sciame sismico in atto dal 24 agosto sentire che la colpa potrebbe essere il terremoto a me personalmente fa veramente male ma a mio avviso il terremoto o no non ha niente a che vedere con la mancanza di soccorsi perché loro chiedevano aiuto dalla mattina e sappiamo tutti la storia delle 88 chiamate di Gabriele e d'Angelo sappiamo delle mail sappiamo tutto quindi comunque la mancanza di soccorso c'è stata questo è il terremoto iniziato la mattina alle 10.25 da lì all'ora della valanga avrebbero potuto portare via tutti sarebbe bastato anche semplicemente ricorrere agli elicotteri senza grandi sforzi senza tante fatiche e venerdì è stato il primo giorno senza più emergenza sanitaria in Abruzzo con meno limitazioni rispetto al passato a Pescara i negozi e locali sperano di tornare a lavorare anche per far fronte alle maggiori spese per le bollete parliamo di Movida degli orari della Movida se ne parla a Pescara ormai da tempo insomma nelle prossime ore nei prossimi giorni dovrebbero esserci delle novità ma allora per quanto riguarda la Movida un piccolo preambolo è assolutamente necessario purtroppo è difficilissimo trovare un punto di caduta tra i diritti dei residenti a riposo e i diritti degli esercenti che invece vorrebbero chiaramente e liberamente svolgere la loro attività economica l'amministrazione da subito non ha fatto non ha avuto un atteggiamento pilatesco ma ha preso in mano la situazione e ha cercato di trovare da sé un punto di equilibrio visto che non è stato possibile trovarlo con la collaborazione delle parti in causa noi riteniamo che Pescara la mia proposta che poi è anche quella di parte della maggioranza e comunque quello che l'anno scorso il sindaco ha fatto è quello di dividere l'anno in due grandi diciamo in due grandi settori quello che va il primo settore che è quello estivo che va diciamo da maggio a metà settembre e anche una parte del periodo di dicembre che chiaramente deve tendere a permettere ai locali di essere aperti e di avere una maggiore libertà perché sono mesi in cui le attività devono lavorare ma sono mesi in cui abbiamo dei turisti qui a Pescara e Pescara a mio giudizio deve sempre di più rafforzare la sua vocazione di città turistico commerciale dall'altro ci sono dei mesi quelli prettamente invernali dove invece secondo me un sacrificio può essere richiesto agli esercenti e quindi andare maggiormente incontro ai residenti che possono godere di molteplici mesi con la massima tranquillità e la serenità per il riposo questa è la proposta questa è una proposta che a mio giudizio è una proposta di buon senso con tutta una serie poi di elementi che aggiuntivi per esempio l'occupazione suolo pubblico come diceva lei prima è finita l'emergenza sanitaria non avremo più il doppio dell'occupazione suolo pubblico quindi c'è una riduzione dello spazio occupato quindi anche del rumore antropico su alcune zone quelle a rischio chiaramente dopo le 10 inibiremo la musica quindi ci sono anche delle altre misure che nonostante i mesi estivi e quindi con degli orari che abbiamo proposto più ampi però sempre la tutela dei residenti è garantita con anche altre misure che stiamo prevedendo lunedì 4 aprile migliaia di studenti delle scuole superiori di tutto l'Abruzzo si ritroveranno al santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso per festeggiare il 100 giorni alla maturità ascoltiamo l'ultima edizione è stata quella del 2019 dopo due anni di pandemia al santuario di San Gabriele della Dolorata di Isola del Gran Sasso si torna a festeggiare i 100 giorni agli esami di maturità lunedì 4 aprile migliaia di studenti delle ultime classi delle scuole superiori e se ne prevedono circa 6.000 provenienti da tutto l'Abruzzo e anche da fuori regione si ritroveranno nella grande chiesa dedicata a San Gabriele il Santo dei Giovani per festeggiare i 100 giorni che li separano dal loro diploma la manifestazione è giunta alla sua 42esima edizione quelle del 2020 e del 2021 sono state celebrate solo simbolicamente a causa del covid quest'anno finalmente finito lo stato di emergenza migliaia di studenti potranno tornare ad affollare il santuario per momenti di preghiera e festa in compagnia del loro protettore si tratta di una giornata unica nel panorama nazionale che consiste in una specie di ritiro spirituale con confessioni messe e socialità diversi religiosi passionisti tra cui molti confessori saranno a disposizione dei giovani per l'intero giorno il programma prevede la celebrazione di sante messe ad ogni ora dalle 9 alle ore 17 dopo ogni celebrazione seguirà il tradizionale e atteso rito della benedizione delle penne la messa delle ore 11 sarà celebrata da Monsignor Lorenzo Leuzzi vescovo di Teramo Atri il quale donerà a tutti i presenti la sua lettera mensile scritta ai giovani della diocesi teramana e intanto la questura di Teramo ha previsto un servizio d'ordine molto capillare che prevede la presenza sul territorio a partire dall'A24 e dall'A14 fino a Colledara di 50 pattuglie tra polizia carabinieri guardia di finanza e polizia locale per effettuare controlli serrati sul possesso di alcol e droga adesso cambiamo argomento e parliamo di sport trasferta insidiosa a Luca per il Pescara alle 14.30 al Porta Elisa sarà una gara decisiva per la rincorsa al terzo posto intanto è arrivato il deferimento per la vicenda plus valenze al Pescara si contesta solo il coma uno evitato il rischio di una penalizzazione vediamo nuovo contrattempo nelle ultime ore per Mirko Drudi che dà forfè anche per la gara di domani a Lucca in difesa spazio alla coppia Illanes in grosso con Berroli a sinistra insidiato da Frascatore in avanti senza Chiarella infortunato e Blanuten nazionale Rauti è pronto a tornare dal primo minuto con Ferrari e Clemenza a centrocampo Pontisso si porta dietro una botta al piede ma ci sarà con Delizio al posto dello squalificato Pompetti Auteri lascia intravedere la soluzione Memushai che ora sembra in vantaggio su Diambò No perché nel frattempo Memushai sta molto meglio perché Diambò ha recuperato e perché abbiamo la possibilità di mettere in campo i giocatori che lo possono sostituire bene Nella Lucchese il tecnico Pagliuca non recupera Papini Semprini è fedato Rodriguez non è ancora in grado di giocare dal primo minuto in avanti ci saranno Nanni e Belloni più uno tra Visconti e Ruggero in mediana Frigerio Collo del Minala davanti a Coletta linea A4 composta da Corsinelli Bacchini Bellice e Nannini Auteri presenta così il match Questa è partita da dentro fuori quindi voglio dire il pareggio non serve a nessuno quello che è successo all'andata ci appartiene poco abbiamo sbagliato in quel caso c'è un giocatore che non c'è più non abbiamo agito correttamente però loro sono squadra che corre tanto squadra composta da giocatori che hanno fame che si vogliono affermare squadra organizzata dal punto di vista tattico che ha gioco corale e aggressione squadra che cerca i ritmi non è il Pontedera per cui nel senso che il Pontedera è una squadra che allunga sempre le squadre che ha di fronte perché ha questo gioco di mettere palla davanti ed accorciare sulle seconde palle è una squadra che articola il gioco quindi è una squadra che si può anche aggredire diciamo che ci sono delle condizioni migliori proprio perché è una squadra che accetta il confronto con obiettivi ancora in ballo Auteri non si sbilancia sul suo futuro o meno ancora a Pescara io sono proprio sereno e tranquillo perché ripeto l'obiettivo è il presente e l'immediato futuro nella mia carriera ho quasi sempre fatto contratti annuali perché poi bisogna stare bene insieme quindi i matrimoni fatti per forza vanno bene intanto ieri dalla procura federale è arrivato l'atteso deferimento al Pescara per la vicenda Plus Valenze a differenza di quanto era emerso dall'atto di conclusione delle indagini che era stato notificato a febbraio al club biancazzurro viene contestato solo il comma 1 dell'articolo 31 del codice di giustizia sportiva illeciti di natura economica dovuta alla valutazione non congrua dei calciatori e non anche il più temuto comma 2 illeciti economici senza i quali una società non si sarebbe potuta iscrivere al campionato che prevedeva tra le sanzioni più pesanti una penalizzazione in classifica fin anche la retrocessione all'ultimo posto o l'esclusione dal campionato col comma 1 il rischio è quello di un'ammenda nel comunicato diramato ieri sera la società biancazzurra si è dichiarata certa di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali prima di due sfide interne oggi per il Teramo che al Bonoli si affronta la cara rese di Antonio Di Natale dopo il pareggio di Olbia per i biancorossi la possibilità di dare slancio definitivo alla rincorsa salvezza si è chiaro che è una partita quasi decisiva dico quasi perché mancano pochissime gare al termine mancano solamente quattro partite e quindi ormai ogni partita può essere quella decisiva sappiamo di dover affrontare un avversario che all'andata ci ha messo in palese difficoltà dove noi non l'affrontammo con la giusta concentrazione per mille motivi però è chiaro che quella partita lì ci deve insegnare che se la cara rese non è presa con la giusta concentrazione con la giusta cattiveria agonistica con la giusta determinazione è una squadra che riesce a farti male in qualsiasi momento specialmente nel reparto avanzato e con i due interni di centro campo hanno capacità tecniche sanno attaccare la porta insomma hanno alternative quindi specialmente nel reparto quando ti attaccano sono estremamente pericolosi dobbiamo valutare fino a domani chi sarà della partita perché abbiamo avuto delle problematiche qualche malanno di stagione che chiaramente non sappiamo se riusciremo a recuperarli e quanti riusciremo a recuperarli domani quindi la conta praticamente la dobbiamo fare domani mattina mi aspetto qualcosa in più ma non tanto perché abbiamo sbagliato qualcosa è perché dobbiamo essere bravi ad avere equilibrio in entrambe le fasi di gioco perché ora stiamo difendendo con grande applicazione stiamo mancando un po' nelle scelte un po' nella fase di possesso è chiaro che dobbiamo essere bravi a fare entrambe le cose quando abbiamo la palla dobbiamo attaccare con grande efficacia e quando la palla c'erano gli altri dobbiamo difendere come stiamo difendendo nell'ultimo periodo però insomma dobbiamo insistere e cercare di unire queste due cose che la fase difensiva la stiamo facendo molto bene nell'ultimo periodo e la fase offensiva che è dall'inizio della stagione dove anche quando non abbiamo fatto gol ma abbiamo creato sempre tantissimo nelle ultime partite siamo stati più sterili quindi dobbiamo essere bravi sicuramente a miscelare entrambe le cose è una squadra che si è migliorata nell'arco della stagione perché all'inizio della stagione aveva delle problematiche che si sono state corrette e quindi per forza di cose lo staff ha lavorato bene è una squadra che secondo me ha inciso tanto anche nel reparto avanzato proprio forse anche il suo essere stato grande calciatore secondo me ha migliorato anche il reparto avanzato quindi io ne posso parlare solamente che bene perché per come ho visto il percorso della Cararese nutro grande stima in questo staff tecnico in questo allenatore perché ho visto una squadra che è migliorata e non magari ci sono altre squadre che partano sempre benissimo e poi arrivano male e quella è un'involuzione della squadra quindi la Cararese non è così la Cararese è migliorata nell'arco della stagione con questa notizia termina l'edizione del TG6 la settimana grazie di averci seguito buona domenica Grazie a tutti